Sarà visitabile invece fino al prossimo 31 di ottobre a Salerno, presso il Museo Diocesano di San Matteo, la mostra I dodici apostoli di Stefano Trapanese, classe 63. Amore per l'arte nasce praticamente con lui. Sin dalla tenere età infatti si divertiva a sorprendere i suoi amici, suscitando in loro tanta ammirazione. Gli studi non sono quelli artistici, frequenta le scuole tecniche, conseguendo nell'81 il diploma di perito industriale. La precisione nel tirare righe e matita senza l'utilizzo di alcuno strumento è oggetto in lui di riflessione, tanto da decidere di dedicarsi poi integralmente alla vita artistica. Lavoro in aziende del settore informatico, ma problemi legati alla crisi del settore, rendono molto inquieto l'artista, il quale decide definitivamente appunto di dedicarsi alla pittura. Considera l'arte non solo come un completamento professionale, ma anche come la sua personale assicurazione sulla vita. La mostra sarà visitabile fino al prossimo 31 di dicembre. Adesso invece ci fermiamo per qualche istante di pubblicità.